97esime edizioni, grandi novità, partecipazione trionfale della Camera di Commercio con tutte le associazioni e le istituzioni, grandi anteprime anche nazionali, Fiat ha presentato la 124 Spider che è all'interno del padiglione 8 con grandissime novità di tutto il mondo automotive, grande conferma dell'artigianato, grandi presenze nazionali e internazionali del gusto, tutta la zona bimbi, quindi giostre, attrazioni, Radio Company, Radio Padova presenti con stand, animazioni, concerti all'interno della fiera campionaria. Questa sera tra l'altro all'interno del padiglione 11, selezioni per Miss Mondo, quindi anche una chicca, come dire, glamour all'interno della campionaria. Campionaria che è in linea con il trend dell'anno scorso, quindi confermato il trend di circa 300.000 visitatori nella 9 giorni della manifestazione, manifestazione che è aperta durante i giorni feriali dalle 4.30 a mezzanotte, dalle 10.00 a mezzanotte nei weekend. Ricordo chiaramente che è l'ingresso gratuito e tutte le info su campionaria.it. Quanti operatori ci sono indicativamente? Quest'anno abbiamo circa 1000 espositori all'interno dei padiglioni fieristici, fiera che è completamente occupata dalla manifestazione sia all'interno che all'esterno, a parte i due padiglioni 14 e 15 che sono in fase di ristrutturazione quest'estate come l'anno scorso gli altri padiglioni. Una presenza importante che abbiamo portato avanti anche come azienda speciale, come Padova Promise, in quanto siamo partiti da questa fiera dei campioni. Proprio dietro di me c'è il quadro che ricorda la fiera dei campioni 1919, immediatamente dopo la fine della prima guerra mondiale, quindi anni di crisi, probabilmente questa fiera campionaria, questa edizione, sicuramente rappresenterà un momento di ulteriore rilancio sia della fiera che della manifestazione stessa. Il tentativo che abbiamo voluto così esperire attraverso questa presenza è stata quella di far vedere una Padova che esiste, ed è appunto sotto il logo Padova Looking Head and Beyond, quindi a significare questa capacità che la nostra città da sempre ha avuto di anticipare i tempi, di avere una vision, ed ecco quindi i primati, i primati che si possono vedere fin dall'inizio, fin dall'entrata, dove la presenza di una presentatore virtuale che abbiamo mutuato dal Musme, dove un Galileo Galilei ci dà il benvenuto e ci ricorda una Padova di un tempo e una Padova attuale. Per arrivare poi attraverso questi primati che si possono vedere nel padiglione fino ai nostri giorni con il professor Gerosa, quando ha fatto un intervento primo al mondo a cuore battente.